I vertici della potente cosca Piromalli di Gioia Taur avevano pensato ad una strategia raffinata per occultare l'impero illecitamente acquisito. Far pagare la mazzetta al clan Molè anche ai loro imprenditori di fiducia. Non era subalternità ma una scelta precisa, bisognava sottrarre quell'ingente quantità di denaro da occhi indiscreti fosse anche la stessa andrangheta. E quanto emerge dal decreto di fermo emesso ieri dalla DDA di Reggio Calabria che insieme a quella di Catanzaro ha sgominato un'organizzazione di tipo mafioso che si occupava di pilotare gare d'appalto in tutta la regione. Dagli atti viene fuori come fossero gli stessi capi del clan Molè, oggi nemici giurati dei Piromalli dopo una lunghissima alleanza, a riconoscere ai rivali una maggiore capacità finanziaria, tanto da stringere alleanze con imprenditori apparentemente irreprensibili, moltiplicando le ricchezze e immettendole in circuiti leciti. Oltre al gruppo Bagalà finito ieri nella rete della Guardia di Finanza, i collaboratori di giustizia fanno anche i nomi di imprenditori oggi noti alle cronache, come Alfonso Annunziata, Matteo Liveri, Nicola Comerci. Dietro questi esploat, sostengono i magistrati reggini, c'era però sempre la stessa regia, la cosca Piromalli. Consolato Minniti, per la CNews24.